buongiorno buongiorno a tutti sono le 11 del mattino e siamo puntualissimi una puntualità veramente al istante al secondo e per questa primissima edizione per questa prima la prima volta di un'intervista di una serie di cinque curate da laura martignon che sono pronto a chiamare in causa ma prima voglio ricordare alcune cose alcune caratteristiche di questa diretta ovvero la possibilità di commentare nello spazio per i commenti sia che si parli di facebook sia che si parli youtube potrete commentare la il tema all'argomento che stiamo parlando che stiamo trattando in questo momento allora noi abbiamo collegato riccardo viale e laura martignon che saluto e ringrazio di essere qui con noi buongiorno riccardo buongiorno laura è un piacere veramente avervi qui riccardo è una persona molto importante che sta lavorando molto in diversi settori della nostra della cultura soprattutto per quanto riguarda la cultura cognitiva e coinvolto in prima persona sulla Herbert Simon Society ma diciamo che il mio ruolo finisce qui io sono solamente un regista e chiedo a laura quindi di introdurre e di presentare i nostri ospite grazie a tutti e buon possedimento sono sempre nelle tattorie a controllare tutti grazie grazie cesare dunque è un piacere è un onore intervistare riccardo viale che come a cesare ha già detto ha diversi ruoli importanti nella cultura italiana e specialmente è professore di economia cognitiva e scienze comportamentali all'università di milano bicocca ma non solo questo è anche segretario generale di una società che lui ha praticamente fondato e che si chiama Herbert Simon Society con il nome importante di uno psicologo economista che noi tutti amiamo e conosciamo nel mio gruppo anche di studio che è Herbert Simon allora introducendo riccardo gli chiedo subito di parlare di questa sua idea di aver fondato questa società e della sua relazione con Herbert Simon e le sue teorie buongiorno riccardo grazie Laura ma allora entriamo subito nel vivo della mia attività di ricerca per passare a cose più dievi Herbert Simon è stato diciamo il personaggio nel mondo scientifico che più mi ha influenzato e devo dire interessante perché viene dopo un altro grande studioso che ha avuto grandi influenze su di me che Karl Popper proprio studiando Popper e vedendo i limiti di quella impostazione per studiare cos'è la conoscenza scientifica ed è l'importanza di analizzare gli aspetti psicologici che portano i scienziati a risolvere i problemi mi imbattei in Herbert Simon quando stavo ad Oxxo per fare il dottorato di ricerca e da lì attraverso proprio il suo lavoro nel studiare come gli scienziati risolvono i problemi mi collegare al mare magnum di attività di conoscenza che ha sviluppato nel campo dell'economia delle scienze politiche dell'amministrazione della scienza di amministrazione dell'intelligenza artificiale della psicologia cognitiva che ha portato Simon a essere uno dei più grandi pensatori del ventesimo secolo premio Nobel per l'economia ma padre fondatore dell'intelligenza artificiale che adesso va di gran moda e quindi con lui abbiamo avuto modo di collaborare bene anche a Torino per una tre giorni di conferenze con lui poi dopo si fece un libro che fu antesignano almeno in Europa di questa rivoluzione delle scienze cognitive e il titolo era economics bounded the rationality and the cognitive revolution e poi sempre con lui si creò la rivista mind and society quindi quando purtroppo in una operazione che non era nemmeno troppo importante nell'ospedale per vari motivi che non ho mai capito venne a mancare proposi a una serie di altri studiosi per cui ci sono cinque premi nobel come anche kahneman verno smith e altri e oltre ovviamente a gergi gerenzer di creare questa associazione chiamata al bersano society che aveva l'obiettivo di promuovere sviluppare l'analisi riflessione sul pensiero di simon su tutte le sue grandi iniziative grandi scoperte ma anche quello di guardare anche più in là cioè seguire il flusso delle conoscenze che le scienze neurocognitive si sta sviluppando e sottolineo neuro perché un importante aspetto oggigiorno soprattutto lo studio del del cervello e anche del corpo quel concetto della cognizione incorporata no che si pensa non soltanto con una mente staccata dal corpo ma anche il corpo contribuisce a elaborare decisioni ciò non era proprio della stessa molto vicino a quello che simon preferiva e credeva di più però di fatto è un tema che va sviluppato ed è quello che stiamo facendo con questa società di dunque se ho capito bene come time in fondo pensava c'è quel libro the science of the artificial che si poteva modellare la mente i processi della mente basicamente in modo molto computazionale cioè algoritmico e la domanda a te è se pensi che ha avuto ragione o se pensi che c'è molto dell'altro che la neuroscienza ci può rivelare che non sarà mai forse completamente modellato attraverso algoritmi computazionali allora dipende cosa si intende modellizzazione algoritmica ovviamente quello che simon diceva è che per riuscire a creare qualcosa che sia anche abbia una base empirica si dovrebbe cercare di modellarla con un programma al computer noi in quel senso lì la riduzione a livello computazionale era per un importante banco di prova sulla validità delle teorie che venivano a essere sviluppate su come funzionava la mente poi lui pensava in effetti che la mente fosse diciamo si sviluppasse attività mentale attraverso quello che chiamava struttura di liste cioè una serie di asserzioni se allora sappiamo che diciamo l'attività mentale è più complessa e di fatto non si sa ancora come serie come riesca a sviluppare i risultati che che produce nella nostra capacità di pensiero di creatività certamente alla fine quando si dovrà dopo aver analizzato il rapporto fra l'attività mentale quella celebrale quella corporea si dovrà rappresentare in qualche modo a livello di forme di rappresentazione linguistico per poter riuscire a capire qual è l'ipote della teoria le teorie che sono coinvolte quindi di fatto si andrà a finire in un approdo saimoniano ciò non toglie però che ovviamente l'individuo quando pensa e soprattutto quando crea è difficile che segua soltanto delle modalità molto formalizzate come se fossero delle regole diciamo la parte associativa del della mente la parte che è quella che ci dà la possibilità di creare di superare i problemi che non riusciamo a affrontare non non si vede come sia di carattere caratterizzato come veniva detto allora da regole che ti portano a sviluppare il pensiero in un certo modo in la modalità associativa è difficilmente a presentare attraverso regole e quindi è tra l'altro agisce anche questa modalità associativa nei momenti in cui noi non pensiamo non siamo consapevoli abbiamo la mente che vaga quello che l'incubazione nella produzione di una scoperta quindi da questo punto di vista probabilmente c'è qualcosa di più che soltanto una mente rappresentata da algoritmi grazie un tema importante che per alcuni tipi di algoritmi che sono le euristiche tocca naturalmente il gruppo di giga renzer e anche il mio eccetera e le euristiche sono state molto ben viste da Herbert Simon cioè Herbert Simon considerava anche che ci sono limitazioni nella nostra capacità mentale che impongono sia per la fretta sia per la mancanza di informazioni o dei ragionamenti a volte veloci però che hanno molto successo e questo è un po la tesi di giga renzer qual è la tua opinione su queste euristiche allora ci sono due situazioni che si potrebbero rappresentare la situazione in cui uno la davanti da bisogno un problema con due tre variabili con molto tempo a disposizione la possibilità di riflettere molto tempo per riflettere per esempio uno deve andare a comprare al mercato una barretta di cioccolato ce n'ha tre davanti tre tipi quindi lui riesce a avere un quadro di cosa gli piace di più per esempio percentuale di cacao sul prezzo il peso percentuale di zucchero e al limite anche altre due tre caratteristiche in quel caso riesce a fare una comparazione chiamano così come vorrebbero gli economisti a fare una analisi compensatoria delle varie caratteristiche scegliere la migliore quindi applicare la teoria dell'utilità peccato però che a differenza di quello che pensano gli economisti il mondo sia caratterizzato da scelte in cui le variabili sono tantissime sono tantissime soprattutto le alternative a disposizione ad esempio sono 100 barretti di cioccolato in cui uno deve decidere che hanno conseguenze ognuna e uno dovrebbe valutare la utilità per ognuna di queste caratteristiche facendo la comparazione in quel caso lì ovviamente non si può essere non si può ragionare come gli economisti bisogna usare semplici regole di scelta e quindi le euristiche in quel caso di questo caso quale euristica si sce si usa in genere quella introdotta la simola euristica satisfaisi uno a tre o quattro caratteristiche in mente per lo importanti tipo prezzo percentuale cacao percentuale di zucchero e al limite anche la confezione incomincia a vedere la prima barretta di cioccolato che soddisfa ne soddisfa due arriva la seconda nessun lista tre raggiunge la terza e quattro e compra però è un modo euristico si potrebbe anche darsi che se la cioccolata non so ferrero piace molto alla tua bambina e la tua bambina al mattino ha detto a che bello sarebbe oggi mangiare un po di cioccolata tu ti dimentichi tutti gli altri criteri e compri quella ferrero in quel caso lì tu arrivi già con una un ordine ben preciso focalizzato su un tipo di cioccolato non devi fare una scelta sulla base di tante caratteristiche però se tu per esempio vai in un paese straniero e non conosci le marche allora cosa fai incominci da vedere la prima vedi vedi una prima caratteristica seconda caratteristica e poi scegli quella che soddisfa le tre quattro caratteristiche non ti vai analizzare tutte le cento barrette di cioccolato che sono presenti nel supermercato ovviamente quando vai hai già l'idea perché ti piace un certo tipo di barretta di cioccolato allora vai già con idea ben precisa vai lì e prendi non devi fare nessuna scelta di comparazione sì e però però sì però la cosa importante che nel mondo non c'è soltanto il problema della quantità di alternative delle difficoltà analizzarle in maniera completa e il mondo è fatto spesso situazioni incertezza nella sezione incertezza noi non sappiamo le alternative che dobbiamo analizzare perché ci sono molte alternative che sono impreviste pensiamo soltanto alle previsioni del mondo finanziario nel 2019 e vediamole nel 2020 quante e quante di queste previsioni hanno avuto successo con l'avvento del covi 19 chi poteva prevedere che arrivasse al covi 19 queste sono situazioni incertezza dove non si può applicare nessun modello economico tradizionale e solo le euristiche possono darci una risposta a che può essere diciamo anche più soddisfacente di qualsiasi sforzo di tipo degli economisti tipo algoritmico cioè utilizzando strumenti forti statistici per fare le previsioni sul futuro dunque siamo arrivati a questo punto trasportati dalle tue idee a il problema del covi e effettivamente non so se ti ricordi quando è cominciato il covi nei diversi paesi del mondo anche gli stati uniti gli economisti protestavano alle reazioni veloci di alcuni politici il lock down subito dicendo non avete abbastanza dati aspettate non c'è base per prendere decisione e invece alcuni politici anche in germania hanno detto no no subito subito chiudere subito lock down che è sembrata in un certo senso anche un euristica cosa ne dici tu di questi economisti non voglio fare nomi ma molto conosciuti anche negli stati uniti a stanford che hanno protestato dicendo non ci sono abbastanza dati come si legge questa posizione degli economisti proprio di fronte a questo discorso delle euristiche quando il fuoco sta ecco allora quegli economisti ovviamente non hanno letto frank knight cioè quando analizza il premio di incertezza quando sia quando si è in una situazione di incertezza che non si sa cosa può succedere perché è una situazione nuova un virus nuovo degli effetti che non si possono controllare il modo più adattivo più diciamo che tutela la sopravvivenza della specie è quella che si chiama ambiguity aversion cioè cercare di avere un principio di precauzione e rischiare il meno possibile cioè tutelarsi per il la situazione dello scenario peggiore e non si può quando non si hanno dati pensare che ottimisticamente che lo scenario sarà il migliore bisogna tutelarsi per il scenario peggiore quindi da questo punto di vista questi economisti ovviamente non hanno ben imparato la lezione dell'incertezza e poi dopo molti questi economisti ovviamente facevano una diciamo un'analisi mettendo sul piatto della bilancia la perdita economica e sull'altro la perdita diciamo della del provvisore delle libertà e l'affaticamento psicologico che ciò poteva portare e da questo punto di vista dicevano ok è più pesante la perdita economica però quello vuol dire commette un altro errore molto grave vuol dire commette l'errore della miopia essere miopi cioè pensare soltanto che il benessere materiale del momento sia l'unica cosa importante non pensare invece gli effetti sul benessere materiale economico nel medio lungo periodo e quindi nel caso dello scenario peggiore cosa avrebbe portato il non chiudere sul breve a livello di medio lungo periodo risultati quindi economici molto più gravi quindi anche da un punto di vista economico era molto più intelligente avere un approccio di precauzione e quindi arrivare al lockdown velocemente grazie mi importa questo subito a la lettura di certi articoli tuoi sul corriere quindi ti chiedo direttamente di parlarci della tua opinione di quello che è successo in italia allora in italia dopo una prima fase molto breve di in cui non si era ben capito il pericolo che si era davanti parlo del mese di gennaio più o meno c'è stato c'è stato una presa di responsabilità molto seria da parte del governo che è stata da quel punto di vista più seria che di quello tedesco che tendeva a cercare ancora di vedere la situazione in maniera ottimistica ovviamente non parlo degli sciagurati governi brasiliano o statunitense che che erano quello brasiliano non è solo vicino è proprio dentro un approccio negazionista quello americano e se non è negazionista però commette una serie di errori di iperottimismo cioè pensando noi siamo gli unici che non avranno problemi sono gli altri che avranno problemi a partire dall'italia che piena di persone anziane mentre invece noi abbiamo persone più giovani come diceva tra l'altro bolsonaro o pensare che sia una tale capacità di controllo delle variabili che è una cosa tipica uno sbaglio variabili di rischio cioè del rischio che succeda le cose negative che tipico errore che fanno i leader egocentrici e molto narcisisti poi dopo vi era un overconfident una confidenza molto più grande delle proprie capacità del sistema sanitario del sistema scolastico di tutti i sistemi pubblici di affrontare il problema e quindi quello portava sottovalutare e quindi a permettere di us di diffondersi liberamente in italia ciò non è stato fatto è stato preso delle decisioni molto serie ci si è chiuse fino a maggio si è ridotto al minimo la trasmissione dell'infezione e la mortalità e poi però si è fatto si è comportati come la cicala nei confronti della formica nel momento in cui si è visto che tutto andava bene pur non essendoci dati che potevano dimostrare né una cosa né l'altra si è optato per la visione più ottimista e si è pensato ma ormai tutto è passato possiamo cominciare a allargare i cordoni e quindi discussioni irreali assurda adesso a posteriori sulle discoteche aperte come sappiamo le discoteche sono il maggiore centro di diffusione di infezioni perché proprio il luogo sembra fatto in laboratorio no un luogo chiuso la gente attaccata che che ispira ed espira in maniera frenetica quindi proprio se si vuole trovare un posto per diffondere proprio la discoteca eppure discoteche sono state aperte e da lì vediamo il disastro di adesso adesso il governo ha assunto una posizione più intelligente perché ha scoperto dall'esperienza passata come trattare il fenomeno quindi una posizione diciamo a macchie di riopardo a geometria variabile a seconda delle situazioni di contagio si tende a chiudere di più a chiudere di meno e lì si vede il discorso delle del colore delle regioni gialle arancioni e rosse è andato un passo alla volta in modo da capire gli effetti delle misure e come riuscire quindi a contenere i danni economici i danni sul tessuto sociale dalla chiusura degli esercizi commerciali e quindi per me da questo punto di vista devo dire il governo ne esce bene come atteggiamento nei confronti del covid importante che non si cedi di nuovo ma che si mantenga la barra dritta del timone perché se no ci sarà ci sarà sicuramente una terza ondata sì adesso diciamo il passaggio naturale trovo io a affermazioni che sono state fatte su quello che succede con i più poveri con i più vecchi tra l'altro i poveri tra quelli che sono rifugiati che vengono dall'estero per esempio in germania e in italia tanti ho trovato che la posizione del papa che diceva che la solidarietà è il principio più importante in questa situazione la solidarietà anche fra le nazioni non solamente in italia con i poveretti ma a livello di nazioni di nazioni unite eccetera sia in questo momento molto più importante di qualunque altro principio laura si chiedo scusa è arrivata una domanda dai nostri da un nostro ascoltatore di florence news io l'ho messa in sovraimpressione la domanda è quali sono gli errori principali di interpretazione dei numeri durante l'emergenza sanitaria punto interrogativo cosa fare per diventare tra virgolette immuni a quelle interpretazioni sbagliate non so se volete un po affrontare questa domanda che è arrivata via social durante la nostra diretta riccardo senz'altro se vuoi anche te laura che sei la donna dei numeri no diciamo che trovo rimetti la domanda così la leggo rimetti la cesare sì dunque ci sono stati molti errori principali di interpretazione perché alcuni non capivano molto bene cosa vuol dire che l'r quel famoso r sia più grande di uno e quindi diciamo l'errore era più che altro non capire cosa vuol dire un modello esponenziale cosa vuol dire che l'r sia più grande di uno ci sia un'esplosione esponenziale dei contagi vero riccardo quello è stato uno degli errori delle persone però come direi anche te l'r è un è un indice molto variegato e debole perché si basa tutta una serie di dati che poi non ci sono sul contagio che una persona può avere ad altri quanto quanto contagio può esserci tanto quindi da questo punto di vista è molto discusso e dibattuto questo questo r con zero rt e così via quindi per me i dati più interessanti più rappresentativi quali sono 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 il numero di di morti ovviamente che il dato più importante di fatto anche se è un dato che si basa sugli effetti dopo due tre settimane almeno è il quanti vanno in terapia intensiva perché quello il dato veramente la patogenicità quanti vanno quanto diventano malati gravi e poi la percentuale fra i tamponi e positivi anche se i tamponi non sono rappresentativi a livello statistico perché vengono fatti diciamo su campioni che non sono rappresentativi però sono molto allargati e questa percentuale si fa capire se si sta diminuendo l'infezione fate in italia siamo passati dal 18 per cento a 10 che significa che la curva sta scendendo quelli sono i dati non ha senso dire parlare dei positivi come un dato perché positivi dipende quanti tamponi fai se ne fai 100 ce n'hai pochi se ne fai un milione c'è nei tanti però non è quello che che dimostra il numero dei positivi quanto si sta diffondendo ma semmai punto il rapporto fra tamponi e positivi sì io continuo adesso sulla mia linea avendo chiuso questo piccolo argomento sui numeri importantissimi a dire che i poveri i poveri e i vecchi e i vecchi poveri moltissimo hanno sofferto di più qui in germania senz'altro e volevo chiedere la tua opinione su questa posizione che io trovo così simpatica e leggo tutti gli articoli sul papa che vengono anche in germania che lui dice la solidarietà conta più di un altro qualunque altro atteggiamento politico la solidarietà fra nazioni l'aiuto per esempio adesso che verrà il vaccino come ci si aiuta in modo da poter far arrivare il vaccino a quelli che ne hanno estremamente bisogno i vecchi e i più poveri eccetera cosa ne dici più per parlare prima di parlare del papa per parlare della solidarietà fra paesi che veramente è un tema molto importante se andiamo ad analizzare a fondo questa solidarietà vedremo che è aumentata la solidarietà a livello geopolitico per quanto riguarda i continenti si può dire per esempio che in europa la solidarietà fra paesi europei è sicuramente aumentata nell'affrontare il una pandemia si vedano ad esempio le ultime decisioni dei tre paesi insieme germania francia e italia per non aprire gli impianti sciistici quindi non agire da free rider cioè da chi utilizza le debolezze i sacrifici degli altri per incassare di più tipo un paese potrà dire vabbè chiudete gli impianti sciistici io no così tutti vengono da me e faccio il land plane durante le vacanze di natale no la svizzera la svizzera così pensa la svizzera è infatti la svizzera che è free rider per eccellenza si pensa appunto alla sua politica finanziaria e monetaria delle banche tutto ha dimostrato ulteriormente che è un paese che sfrutta gli altri paesi vicini ma non contribuisce mai in nessun modo al benessere europeo e la svizzera invece appunto si combatte in maniera diversa invece paesi dell'europa dell'unione europea hanno dimostrato la solidarietà però quello non si scontra nei rapporti tra stati uniti e europa o cina e gli altri paesi in cina la solidarietà avrebbe dovuto essere anche messa a disposizione dei dati ma anche non segretezze non bugie sulla nascita del della pandemia e quello non c'è stato in america in stati uniti c'è con trump c'è stata questa impostazione isola isolazionista e contro il multilateralismo per cui degli altri paesi a tanto non importa niente importante cercare di soddisfare soltanto gli americani america first no è quello che quindi di solidarietà anche lì c'è stato niente è molto poco tranne alcune parole divertenti nei confronti dell'italia questo tipo e lì arrivo al al papa il papa ha diciamo impostato il suo pontificato per me su due parole più importanti la prima la misericordia che ha a che fare appunto con il discorso della solidarietà del aiutare i deboli e secondo la verità è un papa che non si è sincerato da segreti di stato è affrontato la verità ad esempio della pedofilia all'interno della chiesa in maniera diretta e senza nessuna ombra senza nessun luogo dove nascondere quello che si sapeva come invece hanno fatto quasi tutti gli altri papi ovviamente iniziato il tutto cambiare con giorni paolo secondo e poi anche con padre vedetto però è stato questo papa che ha posto il tema della verità con un tema fondamentale il tema della misericordia ovviamente il più è il più caratterizzante è un papa che si può definire che propone una teologia dei popoli cioè un papa che pensa che l'importanza di andare a capire la richiesta di fede del credente nella dimensione specifica individuale la concretezza della vita sia più importante che ragionare soltanto a livello teologico è un paio un papa non teologo un papa pastore è un papa store però che cita anche i padri della chiesa come san tommaso quando san tommaso dice quando si ragiona su cose grandi ci possiamo riscontrare una certa necessità cioè delle leggi delle norme necessarie quando si va a discutere invece nel nella specificità nel si arriva a terra ci rendiamo conto molte volte della indeterminatezza santommaso di indeterminatezza ma non indeterminatezza alla fine uno pensa propone relativismo cioè che non esiste più niente in cui su cui giudicare ma è un'indeterminatezza che dice sostanzialmente non rimaniamo ingabbiati in gabbie eh eh generali eh teoriche eh normative di un certo che per su cui basiamo il nostro giudizio sugli altri ma dobbiamo calarci nella vita del credente dobbiamo calarci nella dimensione della sua esistenza della sua qualità di vita per riuscire anche a giudicarlo e quindi da questo punto di vista si capisce proprio con questa impostazione cosa significa la posizione di del papa nei confronti dei divorziati nei confronti dei gay dei transgender che chiaramente eh lui valuta nella dimensione della loro vita reale della loro sofferenza anche anche eh eh quanto riguarda la vita eh quindi il discorso aborto o eh in ogni caso il la concezione della vita si parla di una bioetica globale cioè lui eh non eh vuole giudicare eh nel 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 generale ma vuole giudicare nello specifico la vita bisogna tutelarla ma anche la qualità della vita delle persone diventa importante quindi da questo punto di vista vediamo proprio come una diciamo un cambiamento radicale molto eh in linea con il concilio vaticano secondo che infatti una delle dei termini che usano eh per definire il eh pontificato di papa Francesco è quello di dire che un papa cherigmatico che deriva da cherigma che è il termine greco che significa sostanzialmente che chelisso vuol dire proclamare gridare devono un po' i messi del re che andavano in giro a a a parlare del delle realtà del della vita sociale e politica del dei regni nel nell'antichità e il che rima e nella nella chiesa cattolica chiesa cristiana sarebbe il eh messaggio che gli apostoli discepoli cominciarono a dare dopo la morte di Gesù Cristo e quindi andare in giro a proclamare la buona novella proclamare il Vangelo e il papa si sente un po' come un pastore che va in giro a proclamare appunto il messaggio di Cristo quindi un papa molto presente nel rapporto con la gente con la sua sofferenza e per cercare di ridurre queste difficoltà queste asimmetrie che che nascono sempre di più all'interno dei paesi però quello che c'è da dire è che è diminuita la disuguaglianza tra paesi cioè una volta c'era più disuguaglianza tra tra il paese occidentale e il resto del mondo adesso c'è meno disuguaglianza tra paesi ma c'è di più dentro i paesi cioè il la piramide è diventata molto con una base molto più larga e un vertice molto più stretto quello in quasi tutti i paesi sì diciamo che il papa viene da un paese è italiano è piemontese diciamo di origine però viene dall'argentina e noi veniamo dalla Colombia anche noi essendo un po' italiani in cui abbiamo conosciuto miserie molto più grandi di quello che uno vede in Italia nel giorno per giorno per cui lui conosce miserie e gradi di inanizione di malattie eccetera che magari in Italia neanche si concepiscono per cui lui come avrai letto continua a dire che il capitalismo liberale che tende a dire se tutto va bene a tutti e l'economia cresce eccetera sbrodola un pochino viene giù anche per i poveri anche i poveri saranno meglio un bel giorno lui dice guardate che questo non funziona e quello che invece funziona è cominciare subito a creare istituzioni ad aiutare i più poveri e migliorare la loro vita qual è la tua opinione su questa posizione allora il papa ha perfettamente ragione questo modello non genera un ottico che dicono gli economisti un'ottimalità paretiana di fatto e questo modello può andar bene se però si utilizzano anche le leve di ridistribuzione dal punto di vista soprattutto dei servizi che può dare lo Stato e il concetto di welfare europeo ha tradizionalmente aveva questo ruolo infatti il welfare europeo nasce dalla tradizione socialdemocratica dei paesi socialdemocratici inizi del secolo e aveva appunto la funzione di permettere un'economia capitalistica ma cercare di compensare le disfunzioni che questa economia capitalistica avevano nel aumentare la disuguaglianza aumentare la povertà non consentire alle persone che rimangono fuori da questa competizione molto dura del mercato di arrivare a servizi essenziali come la salute come la l'istruzione e così via quindi da questo punto di vista il papa sostiene il vecchio modello europeo in cui ciò era presente che è stato poi poco alla volta un pochettino in certi paesi poco in altri molto di più tagliato dalle strettezze del bilancio pubblico e dall'inefficienza poiché c'era di fatto nella pubblica amministrazione e quindi un ritorno a riproporre questo tipo di funzione che ha lo stato per compensare le manchevolezze del mercato i fallimenti del mercato e qui è secondo il la ricerca di trovare delle soluzioni a livello economico che non dico arrivare a quella che si chiama la economia a crescita zero cioè rinunciare alla crescita economica ma avere una crescita economica meno distruttiva sull'ambiente sul appunto sulla parte sociale sulla dimensione sociale meno legata alla finanza se pensi alla finanza è fondamentale ma finché era una finanza come quella all'inizio del novecento che era sostenuta dal jp morgan quando è nato il mercato i mercati finanziari in cui c'erano una borsa che era legata a aziende che producevano quindi era una valutazione sul prodotto e non una finanza come abbiamo adesso dove per esempio faccio un esempio che faccio anche poi a lezione quando se pensiamo all'impresa finanziaria in cui c'erano due premi nobel che è black long term capital management grande l'impresa di successo finanziario aveva nel portafoglio 4 miliardi di dollari ma agiva come se ne avesse 1200 attraverso la leva tutti i soldi che non esistevano era una leva di fatto basato su aspettative e è bastato la prima crisi grave in russia per far crollare questa impresa e mette a rischio l'intero sistema finanziario internazionale quella che non successe perché la fede della reserve la salvò mentre qualche anni dopo sappiamo con le man brother sono successe e con la crisi del 2007 2008 che durò più dieci anni ecco non possiamo essere schiavi soltanto della economia della finanza drogata dobbiamo ritornare a una finanza che sia corrispondente al corrispettivo industriale di prodotto perché altrimenti rischieremo un aumento esponenziale della ricchezza nemmeno a pochissimi e quindi una piramide diventa sempre più larga la base e stretta al vertice e la possibilità di cadere in crisi finanziaria come quella che è avvenuta 2007 2008 grazie allora diciamo con questo discorso sul papa in realtà finiamo il nostro incontro io devo dire devo confessare che da quando c'è questo papa mi interessa moltissimo sia della chiesa cattolica di nuovo e dei testi sul papa eccetera con grande felicità per esempio la domenica mi vedo l'angelus che il papa tiene a non solo alle 9 del mattino poi me lo rivedo e sono molto contenta perché dice sempre cose che consolano c'è questa consolazione come tu dici diretta alle persone alla diciamo a loro giorno per giorno con le difficoltà del covide eccetera eccetera e tu ti sei riavvicinato anche tu come parola finale adesso ti chiedo personalmente con questo papa ti sei avvicinato alle idee religiose cristiane che lui distribuisce e propagandizza ogni giorno quasi sono come te nella stessa lunghezza d'onda io in più c'ho caterina mia moglie che è una servente cattolica con cui mi confronto su questa fede perché dal mio punto di vista è molto diciamo legata alla dimensione appunto di questo papato di questa sua capacità di cogliere la sfida della umanità reale non di quella immaginaria della teologia e che quindi mi vede diciamo molto più vicino anche umanamente a lui umanamente a livello anche di idee sul 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 mondo rispetto a quello che diciamo vivevo come dimensione del cristianesimo con i papa precedenti ho capito che bello quindi oggi è domenica buona domenica come dice sempre il papa preghiamo per lui lui dice sempre e non mi dimenticate di fregare per me fregheremo un po' anche oggi allora io voglio voglio ringraziare vi voglio comunicare qualche dato sulla diretta abbiamo avuto un totale complessivo di 60 persone che si sono collegate spolaricamente la somma delle tre piattaforme due piattaforme facebook e la piattaforma youtube abbiamo avuto sette like e due domande in particolare complimenti sono arrivati anche da una da un nostro viewer e noi abbiamo appuntamento laura e per la prossima domenica vero abbiamo questo questo impegno di andare in onda tutte le domeniche sai già dirci qualche idea di quello che potrà essere l'evento no 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 però è una sorpresa però voglio dire che i commenti possono anche venire a posteriori cioè la gente alcuni miei amici che adesso sono in colombia stanno dormendo poi lo vedranno e possono far commenti vero sì certamente certamente vengono monitorati e trasmessi a riccardo successivamente in modo che ci sia una risposta anche per iscritto nella misura del possibile diciamo questo mi fa molto contenta allora riccardo ti ringrazio e vedrai le reazioni spero anche da italiani all'estero e ti farò sapere ti mando un caro abbraccio grazie saluti a caterina grazie ma siamo siamo ancora in onda siamo ancora in onda siamo in onda siamo in onda adesso interrompo la trasmissione magari possiamo parlare anche off fine metto il cartello e poi chiudo